Buongiorno ragazzi, in questa video-lezione parliamo delle cosiddette cinque vie di Tommaso d'Aquino, ossia le prove che egli formula per dimostrare, attraverso l'uso della ragione naturale, l'esistenza di Dio. Poiché la ragione naturale, afferma Tommaso, è stata data all'uomo da Dio e quindi in grado di dimostrare l'esistenza del suo creatore. Chiaramente, come avevamo già esposto nell'ultima video-lezione, Tommaso afferma che di Dio si può dire soltanto che esiste, ma non che cos'è, che era il grande sogno di Tommaso. Le cinque vie in effetti servono proprio a questo, cioè a dimostrare che Dio esiste senza alcuna ombra di dubbio. Le cinque vie, come potete vedere da questa mappa, si basano tutte su un ragionamento di tipo aristotelico. Vi ricordo che Aristotele era stato il primo a formulare una prima prova dell'esistenza di Dio nella sua fisica, basandosi sulla cinematica, cioè sul movimento. E in effetti, una delle prove, o meglio, tutta l'impalcatura teorica delle prove di Tommaso sono di matrice aristotelica e sono tutte prove a posteriori. Vi ricordo la differenza tra una prova a priori, come quella dell'argomento ontologico di Anselmo, che parte dalla definizione di Dio per dedurne la sua esistenza, rispetto alle prove a posteriori, quella aristotelica e questa di Tommaso, che invece partono da un dato della realtà, come può essere il movimento, ad esempio, oppure i gradi di perfezione presenti nell'universo, per arrivare poi, attraverso un ragionamento che risale alla causa, arrivare appunto a una causa prima, che sarebbe Dio. Partendo dalla prima, la prova cosmologica, che appunto egli desume dalla fisica e dalla metafisica di Aristotele, egli afferma il principio appunto aristotelico, secondo cui tutto ciò che si muove è mosso da qualcos'altro. E siccome il classico ragionamento aristotelico affermava che non è possibile a questo punto regredire, procedere all'infinito, di motore in motore, poiché tutto ciò che è mosso è mosso da altro a sua volta, questo altro è mosso da qualcos'altro e così via, non è possibile procedere all'infinito nella catena delle cause, quindi deve esserci un primo motore che pur muovendo tutto non è mosso. Questo primo motore, afferma Tommaso, è ciò che tutti chiamano Dio. L'altra cosa interessante è che in tutte e cinque le prove, egli conclude sempre che questa prima causa, nelle varie prove, lui conclude è ciò che tutti dicono essere Dio, oppure è ciò che tutti chiamano Dio. E' molto interessante perché in effetti Tommaso non dice chiaramente questo primo motore è Dio, poiché la ragione naturale non porta fino a quest'ultimo passaggio, ma arriva a dire che appunto c'è un primo motore immobile. Chiaramente però Tommaso nella sua fede religiosa chiaramente identifica questo primo motore con Dio. Passando alla seconda via, la prova causale, anche qui si parte dall'idea che tutto ciò che esiste è causato da altro. Nell'impossibilità di progredire, di procedere all'infinito nella catena delle cause, ci sarà una prima causa, incausata, che tutti chiamano Dio. La via ex possibili et necessario, sempre attraverso lo stesso ragionamento, parte dal presupposto presente nell'esperienza che tutto ciò che esiste è possibile, e quindi è contingente e non necessario. Quindi esiste ma potrebbe anche non esistere. Ragion per cui tutto ciò che è contingente deve avere una sua causa, ma questa causa è a sua volta contingente, è ancora possibile, e quindi ancora una volta sarebbe necessario progredire all'infinito. In questa impossibilità ci sarà quindi un primo ente, che pur essendo all'origine della catena dei possibili, sarà però necessario. Questo ente è ciò che tutti chiamano Dio. La prova dei gradi di perfezione, che tra l'altro poi Kant, alla fine dell'età moderna, definirà come una delle più affascinanti delle prove dell'esistenza di Dio, afferma, parte dalla constatazione, che nell'universo ci sono diversi gradi di perfezione, che tutti gli esseri sono disposti secondo un ordine gerarchico di perfezione. E chiaramente anche qui, non potendo procedere all'infinito in questa serie di gradi di perfezione, ci sarà un primo ente all'origine di tutta questa catena di gradi di perfezione, che costituisce la somma perfezione. Questo ente è ciò che tutti chiamano Dio. Ultima prova, la prova ex fine, parla della finalità. Desume l'esistenza di Dio dalla finalità delle cose, poiché, anche qui aristotelicamente parlando, le cose naturali appaiono tutte dirette ad un fine. E questo non potrebbe accadere, afferma Tommaso, se non fossero governate da un essere dotato di intelligenza. Anche qui l'impalcatura è strettamente aristotelica, perché già Aristotele aveva parlato di Dio come di oggetto d'amore dell'universo, poiché tutti gli esseri che sono in potenza sono spinti da Dio atto puro verso il compimento della loro forma. Ragion per cui, riprendendo quello stesso concetto, la prova ex fine riprende appunto l'idea di Dio come intelligenza ordinatrice. Chiaramente, questa parte della teologia atomista, che lui chiama teologia naturale, permette all'uomo soltanto, come vi dicevo, di dimostrare che Dio esiste, ma non che cos'è. Tanto che in un'altra opera, perché le cinque vie sono trattate nella somma teologica, in un'altra opera, un breve scritto, che era stato redatto da Tommaso come sunto di metafisica, una sorta di guida per coloro che si stavano approcciando, quindi i suoi fratelli ancora in fase di formazione, che si approcciavano alla filosofia e alla teologia, questo libello si chiama Lente e l'essenza, un'operetta molto complessa di Tommaso, che conclude, alla fine, che di Dio non è possibile definire l'essenza. O meglio, in una maniera quasi misteriosa, Tommaso afferma che di Dio possiamo soltanto dire che l'essenza coincide con la sua esistenza. Quindi a dire, in maniera molto elegante, che di Dio possiamo dire soltanto che esiste, ma non che cos'è, appunto. Ancora una volta ribadisce questo concetto. Però la cosa interessante che viene fuori dalle prove dell'esistenza di Dio è anche un'altra, e cioè che Tommaso procede per, in qualche modo, dimostrare l'esistenza di Dio, procede su un doppio binario che gli permette, da un lato, di dimostrare l'esistenza di Dio, ma dall'altro anche di definire alcuni attributi fondamentali di Dio. Questo duplice binario è la via remozionis, cioè la via negativa, che, come potete notare in tutte le prove, consiste nel negare, riguarda a Dio, tutte le imperfezioni delle creature. Quindi si passa, o meglio, si parte dall'imperfezione delle creature per arrivare alla somma perfezione di Dio, affermandone quindi gli attributi. Questi attributi sono quelli che vedete, perché dalla prova riguardante il movimento abbiamo Dio come primo motore immobile, quindi il primo attributo. Dalla prova ex causa abbiamo Dio come causa prima e incausata, dalla prova del possibile abbiamo Dio come ente necessario, dalla prova dei gradi abbiamo Dio come somma perfezione, dalla prova ex fine abbiamo Dio come intelligenza ordinatrice. Ragion per cui, quindi, la struttura logica parte sempre da un dato dell'esperienza, applica il principio di causalità, esclude la regressione all'infinito e perviene quindi a Dio come realtà trascendente, esplicatrice. Vi dicevo, su un doppio binario, la via negativa, che abbiamo detto, la via positiva, che consiste nel conoscere Dio attraverso le perfezioni che gli comunica alle creature. Questa via positiva si articola in via causalitatis, che consiste nel derivare appunto dall'effetto, cioè dal mondo, la causa che lo ha prodotto, e la via eminenzie, che consiste invece nel, sulla scorta un po' della via negativa, nel liberare l'attributo in questione, come per esempio l'intelligenza, dai limiti che esso possiede nelle creature e pensare al superlativo, quindi l'ente che è appunto Dio. Altra cosa interessante è che tra gli attributi del mondo e gli attributi di Dio, poiché questi ultimi, scusate, poiché le creature sono state create da Dio, esiste una forma di analogia che Tommaso definisce come una parziale somiglianza e una parziale dissomiglianza. Nel senso che, essendoci un rapporto tra Dio e le creature, un rapporto di creatore-creazione, necessariamente gli attributi delle creature sono analoghi a quelli di Dio, solo che in quest'ultimo sono presenti in sommo grado. Oltretutto, proprio per questo motivo, Dio eccede le capacità della mente umana e quindi, come vi dicevo, quel grande sogno di Tommaso di comprendere che cos'è Dio risulterà in tutte le sue opere un fallimento, come abbiamo già detto, nell'ente e l'essenza e, come avevamo visto, nel famoso episodio del 1273 in cui, non si sa bene, Tommaso ebbe questa sorta di illuminazione affermando che tutto ciò che aveva scritto era paglia, tanto che si racconta che Tommaso, appunto, poco prima di morire, abbia detto questa frase all'amico Reginaldo, il quale lo esortava a terminare la stesura della Somma Teologica. e, appunto, si è sentito dire da Tommaso non posso finirla poiché tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia. Questo fa sì che, alla fine della sua opera, il Dio di Tommaso risulti in qualche modo un Deus absconditus, nel senso che egli afferma si sa qualcosa di Dio, altrimenti non se ne potrebbe parlare. Questo qualcosa che si sa di Dio appunto sono le prove dell'esistenza di Dio e i suoi attributi da un lato per la teologia negativa, per la teologia naturale, scusate, tuttavia non è possibile sapere tutto di Dio. Proprio a questo proposito nella teologia appunto Tommaso partendo dal concetto aristotelico che appunto tutto ciò che si conosce si basa sull'esperienza, quindi la conoscenza umana si basa sull'esperienza e l'esperienza è il primum cognitum, cioè il primo punto della conoscenza dell'uomo da cui parte la conoscenza, quindi l'intelletto umano è, come affermava Aristotele, una tabula rasa alla sua nascita, il materiale della conoscenza viene dall'esperienza, Dio rappresenta l'extremum cognitum, cioè l'oggetto più difficile da conoscere, o meglio impossibile da conoscere perché l'uomo non ha nessuna esperienza concreta di Dio, poiché non possiamo né vedere né toccare Dio. Ragion per cui, mentre la teologia naturale, che è una forma di filosofia, parte dalle creature, si rivolge alle creature e fonda i propri presupposti attraverso la ragione, a un certo punto è necessario per avere un più diretto contatto con Dio, è necessario avere la dottrina rivelata, cioè la cosiddetta teologia rivelata, che permette all'uomo di cogliere ciò che è irraggiungibile dalla ragione. Attraverso che cosa? Attraverso i presupposti della fede rivelata, senza alcun bisogno di giustificare questi presupposti, appunto, ma avvalendosi, dice Tommaso nella Somma Teologica, del principio di autorità. Mentre per la teologia naturale invece è necessario fondare i principi su cui essa si basa. Questi principi sono i principi generali della metafisica che affondano le radici nella razionalità. E poiché quest'ultima, afferma Tommaso, ci è stata data da Dio, anche il lume naturale con i suoi principi è in qualche modo partecipe della luce divina. Questo lo afferma nella Somma Contro i Gentili. Questo vuol dire, per concludere nel discorso su Tommaso d'Aquino, che nonostante l'autonomia che Tommaso aveva assegnato alla razionalità dell'uomo rispetto alla fede, il fondamento ultimo comunque dell'uomo risulta di natura teologica. Risulta essere sempre Dio e la stessa metafisica finisce per culminare nella nozione di Dio.